Siete creduto fino in fondo a strappare questo punto? Sì, noi siamo una squadra, come diceva bene Braglia in conferenza pre-partita, simile a quella dell'Avellino dell'anno scorso. Magari non siamo bellissimi da vedere, ma siamo efficaci e soprattutto abbiamo un grande spirito. La squadra, il gruppo, ha uno spirito che sa, anche nei momenti di difficoltà, fare la corsa in più per il compagno. Oggi, devo dire che nei primi 10-15 minuti abbiamo sofferto tantissimo. Probabilmente un'altra squadra, al di là di un pizzico di fortuna, come è stata sulla traversa di Canute, se non sbaglio, poteva comunque andare in grossissima difficoltà. Ecco dov'è lo spirito di questa squadra, cioè far passare i momenti di difficoltà tutti assieme, facendo veramente gruppo anche lì in campo davanti al nostro portiere, e piano piano cercare di far passare questi momenti che in tutte le partite ci possono essere, e uscire dal guscio un pezzettino alla volta, finché poi dopo si prende un po' più di coraggio, un po' più di personalità ci si mette. E poi credo anche nel secondo tempo, dal punto di vista fisico, stavamo abbastanza bene. Poi c'è stato un errore, ecco, le considerazioni dopo un mese possono essere che non sai che squadra ti trovi dal punto di vista atletico, dal punto di vista anche psicologico, è dura di adattarsi magari al clima partita, e poi commettere dell'ingenuità che solitamente a livello difensivo non commettiamo. Però c'è anche la forza e la qualità dell'avversario, quindi siamo stati bravi poi nel riprendere la partita, e tutto sommato credo che conteggiando le diverse situazioni potrebbe essere definito un pareggio sostanzialmente giusto. Prima di liberare, le ripartenze che hanno messo in grossissima difficoltà l'Avellino, l'avevata preparata così, o uno dei vostri punti di forza? È una nostra qualità, ecco perché noi siamo meno abili nel palleggio, e se sei meno abile nel palleggio, ma non sei neanche pronto a sacrificarti nella fase difensiva, dove devi correre soprattutto in ampiezza e coprire le ampiezze, e sulla riconquista non hai la gamba per fare male, allora potresti andare in difficoltà. Noi abbiamo adattato il nostro stile di gioco alle caratteristiche dei giocatori per ottenere risultati, e man mano che la stagione va, i giocatori prendono sempre più fiducia e coraggio in quello che sanno che possono fare, sapendo che abbiamo dei grossi limiti, ma anche dei grossi pregi. Quindi con umiltà siamo lì, abbiamo la voglia di rimanere il più possibile, pur sapendo che ci sono tante altre squadre molto più attrezzate di noi, ma finché ci siamo ci vogliamo provare ad essere fino al più tempo possibile. Comissario, a tal proposito, una provocazione anche simpatica, visto che il Bari ha pareggiato, c'è il rammarico per non aver vinto oggi ad Avellino. Beh, però diciamo che anche noi l'abbiamo ripresa la partita, quindi forse magari ha il Bari il rammarico di non aver allungato. No, no, sono squadre importanti, quindi noi non dico che tutto quello che viene in più della salvezza è tutto di guadagnato, perché quando siamo lì poi ci vogliamo provare ad essere. Poi se gli altri dimostreranno di essere nettamente superiori a noi, tanto di cappello gli faremo i complimenti, però venderemo cara la pelle per rimanere il più in alto possibile e avere i nostri momenti di gioia.